Sette e tre anni, seconda miglio, buono l'allineamento già completato, un po' arretrata proprio la solare. Via la macchina in velocità. Sabrina di Galoppo. C'è lotta per il comando con Siento, che cerca di convergere lungo i birilli con a largo saetta degli dei che punterà in avanti. Freeway per la targata dei, lancio in 13,6 e così la saetta, leader al completamento quasi della prima curva. E l'Igor Font di Antonio Di Nardo completa i 400 iniziali nell'ordine del 29,5. Amministra il vantaggio, l'errore di Silverstaff e ne approfitta solare per prendere la via del largo. Cavalli ha il completamento dei 600. 600 se ne vanno in 45,5 e solare Rock va deciso sulla saetta. L'appariglia, le due alle prese. Penultima curva risponde bene la saetta agli attacchi della targata Rock e completa il mezzo miglio in un minuto abbondante. Cavalli che affrontano il penultimo rettilineo, torna alla carica solare, viene via anche solo CAF. Ne rimangono in 5 il chilometro, timbrato in 1,15 e mezzo. Solare ha qualche problemino e retrocede all'esterno di Is. Siento al comando la saetta, tenta di ritornare solare, ma la leader allunga. 15,1,30 e mezzo, tre quarti di miglio. Si elimina Solare e Rocca, ha avuto già dei problemi. E così solo Siento nella scia della saetta. Retta d'arrivo con saetta degli dei in vantaggio su Siento. Saetta al comando, Siento sposta, Sofia Griff. Controlla Saetta, sembra controllare, allunga. E non c'è più tempo per la targata dei. Mentre il numero 5, Siento, argina, Sofia Griff. 2,1 o meno un battito sul mio cronometro. Cost to cost notevole di Tony Tony, Tony Tony, Tony Young. Notevole per senso tattico, capacità di gestione e soprattutto grinta finale. Bene bene anche Siento con Romeo Gallucci, questo Felix del Nord. Al terzo, una Sofia che è cresciuta molto.